Gianluca come sono i meloni quest'anno? Quest'anno abbiamo un'ottima produzione di meloni con un sapore molto delicato e dolce grazie al tempo che è stato sempre favorevole e niente, aspettiamo questa sagra e con molta voglia ci stiamo preparando tutte le aziende della zona per questo evento tanto atteso e speriamo che venite in tanti. Siete contenti oltre che della produzione anche delle vendite quest'anno? Siamo contenti, il prodotto sta uscendo un buon prodotto quindi le vendite stiamo andando bene, stiamo cercando di valorizzarlo anche dal comune di Cervetti siamo riusciti a prendere la teco che adesso la presenteremo alla sagra del melone. E quest'anno abbastanza bene, diciamo ci sono stati un pochino di problemi all'inizio per la gestione dei soliti problemi che ci stanno ma abbastanza bene dai? Sicuramente sì, sicuramente, sicuramente la sagra sarà una bella manifestazione, sarà più bella penso del litorale come è stata l'anno scorso, sicuramente quest'anno sarà ancora meglio sarà. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.